Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi come avevo detto vi mostrerò la mia... non avevo detto niente Ehm... mi ero confuso Come ho detto adesso mostrerò la mia Playstation 3 Mi raccomando seguite questa serie Vi mostro le cose nuove Mi raccomando iscrivetevi al mio canale Mettete like E soprattutto andate a vedere il video in cui vi mostro io che gioco a Minecraft la mia casa E anche il video su Granny E vi mostrerò pure il video su Granny Mi raccomando andate a iscrivervi Noi iniziamo subito Mi raccomando seguite questa serie e vi mostro le cose nuove Qua c'è la mia Playstation 3 Qua ci sono i joystick Come potete vedere Non ho quelli originali perché si sono rotte questa Playstation L'ho davvero da tantissimo tempo 2010-2011 Questo qua è il joystick Che l'ho comprato un mese fa Dei mesi fa non me lo ricordo Questo qua pure Questa qua è tutta la mia Playstation 3 Qua c'è la mia TV Vi piace la mia TV? E qua c'è i miei joystick Te la comando E tutto quanto E qua c'è la mia Playstation 3 Qua 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 c'è la mia Playstation 3 E la versione Slim Mi raccomando andate a vedere pure il video in cui vi mostro la mia Playstation 2 E adesso questa della Playstation 3 Magari Un giorno vi mostrerò pure il video in cui vi faccio vedere la mia Playstation 4 Chi lo sa Magari lo farò vedere un giorno Però solo se questo video arriva fino a impossibile 30 visualizzazioni 39 Quasi 40 visualizzazioni Farò vedere la mia Playstation 4 Però se non arriviamo a questa cifra Quasi 40 visualizzazioni Non lo porto sul canale E sto parlando seriamente Comunque Noi ci vediamo domani o dopo con un prossimo video E ciao Ciao